Salve a tutti e ben ritrovati. Nella fine settimana dopo l'instabilità di questi giorni torna Anticicronia ad abbracciare gran parte delle regioni meridionali con un aumento delle temperature che torneranno leggermente al di sopra della media con valori che comunque si attesteranno intorno a quelli che sono tipici del periodo. Vediamo quello che accadrà nel dettaglio quindi nel fine settimana partendo dalla giornata di oggi, sabato 11 maggio, ancora vento sostenuto dai quadranti settentrionali e cielo in prevalenza poco nuvoloso, temperature in leggero aumento con valori massimi intorno ai 24-26 gradi centigradi. Nella giornata di domani, domenica 12 maggio avremo un ulteriore aumento delle temperature che si porteranno fino a 27-28 gradi nelle ore più calde della giornata. Anche le minime segneranno un aumento di 2-3 gradi rispetto ad oggi. Ventilazione ancora dei quadranti settentrionali ma in diminuzione per quanto riguarda l'intensità. E apriamo anche la prossima settimana con lunedì 13 maggio, ancora una bella giornata con cielo in prevalenza poco nuvoloso, temperature che rimarranno molto umiditi con valori massimi fino a 27-29 gradi centigradi. Ventilazione che ruoterà dai quadranti meridionali, poi con molta probabilità arriverà al sud Italia un'ondata di caldo in risposta ad una bassa pressione che invece interesserà le regioni settentrionali. Di questo ne parleremo martedì. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro. Buon weekend!